Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ave Maria, i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria, siano sempre con tutti noi. Benvenuti, cari fratelli e sorelle, nell'appuntamento con l'Ufficio delle Letture. Oggi, settimana settimana del Tempo Ordinario, lunedì. Prima lettura dal Libro del Chelet. Vanità dei piaceri e della sapienza umana. Io ho detto in cuor mio, vieni dunque, ti voglio mettere alla prova con la gioia, gusto e il piacere. Ma ecco, anche questo è vanità. Del riso ho detto, follia. E della gioia, a che giova? Ho voluto soddisfare il mio corpo con il vino, con la pretesa di dedicarmi con la mente alla sapienza e di darmi alla follia, finché non scoprissi che cosa convenga agli uomini compiere sotto il cielo, nei giorni contati della loro vita. Ho considerato poi la sapienza, la follia e la stoltezza. Che farà il successore del re? Ciò che è già stato fatto. Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Ma so anche che un'unica sorte è riservata a tutte e due. Allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto. Allora, perché ho cercato ad essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho concluso, anche questo è vanità. Infatti, né del saggio, né dello stolto resterà un ricordo duraturo, e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo, muoiono il saggio e lo stolto. Ho preso in odio la vita, perché mi è sgradito quanto si fa sotto il sole. Ogni cosa, infatti, è vanità, è un inseguire il vento. Ho preso in odio ogni lavoro da me fatto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto. Eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo durato sotto il sole. Perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo, dovrà poi lasciare i suoi beni a un altro, che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e grande sventura. Allora, quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica e in tutto l'affanno del suo cuore con cui si affatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose. Il suo cuore non riposa neppure di notte. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersela nelle sue fatiche. Ma mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Di fatti, chi può mangiare e godere senza di lui? Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre al peccatore dà la pena di raccogliere ed ammassare per colui che è gradito a Dio. Ma anche questo è vanità. È un inseguire il vento. Responsorio Seconda lettura Se l'anima solleverà gli occhi verso il suo capo, che è Cristo, come dichiara Paolo, dovrà ritenersi felice per la potenziata acutezza della sua vista, perché terrà fissi gli occhi là dove non vi è l'oscurità del male. Il grande apostolo Paolo e altri grandi come lui avevano gli occhi in fronte e così pure tutti coloro che vivono, che si muovono e sono in Cristo. Colui che si trova nella luce non vede tenebre. Così colui che ha il suo occhio fisso in Cristo non può contemplare che splendore. Con l'espressione occhi in fronte, dunque, intendiamo la mira puntata sul principio di tutto, su Cristo, virtù assoluta e perfetta, in ogni sua parte, e quindi sulla verità, sulla giustizia, sull'integrità, su ogni forma di bene. Il saggio, dunque, ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Chi non pone la lucerna sul candelabro, ma sotto il letto, fa sì che per lui la luce divenga tenebra. Quanti si dilettano di realtà perenni e di valori autentici sono ritenuti sciocchi da chi non ha la vera sapienza. È in questo senso che Paolo si diceva stolto per Cristo. Egli, nella sua santità e sapienza, non si occupava di nessuna di quelle vanità, da cui noi spesso siamo posseduti interamente. Dice, infatti, noi stolti a causa di Cristo, come per dire, noi siamo ciechi di fronte a tutte quelle cose che riguardano la caducità della vita, perché fissiamo l'occhio verso le cose di lassù. Per questo egli era un sensatetto, non aveva una sua mensa, era povero, errabondo, nudo, provato dalla fame e dalla sete. Chi non lo avrebbe ritenuto miserabile, vedendolo in catene, percosso e oltraggiato? Egli era un naufrago trascinato dai flutti in alto mare e portato da un luogo all'altro, incatenato. Però, benché apparisse tale agli uomini, non distolse mai i suoi occhi da Cristo, ma li tenne sempre rivolti al capo, dicendo, chi ci separerà dalla carità che è in Cristo Gesù? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Vale a dire, chi mi strapperà gli occhi dalla testa? Chi mi costringerà a guardare ciò che è vile e spreggevole? Anche a noi comanda di fare altrettanto quando prescrive di gustare le cose di lassù, cioè di tenere gli occhi sul capo, vale a dire, su Cristo. Responsorio Ecco come gli occhi dei servi sono rivolti alla mano dei padroni, i nostri occhi al Signore nostro Dio finché abbia pietà di noi. Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. I nostri occhi al Signore nostro Dio finché abbia pietà di noi. Bene, fratelli e sorelle, facciamo un piccolo passo indietro. Ieri, 23 febbraio, era la memoria di San Policarpo, vescovo e martire. Vi leggo la lettura dell'ufficio della lettura, molto importante, parla del suo martirio. Dalla lettera della chiesa di Smirne sul martirio di San Policarpo. Come sacrificio gradevole accetto. Quando il rogo fu pronto, Policarpo si spogliò di tutte le vesti e sciolta la cintura, tentava anche di togliersi i calzari, cosa che prima non faceva, perché sempre tutti i fedeli andavano a gara a chi più celermente riuscisse a toccare il suo corpo. Anche prima del martirio era stato trattato con ogni rispetto per i suoi santi costumi. Subito fu circondato di tutti gli strumenti che erano stati preparati per il suo rogo, ma quando stavano per crocifiggerlo con i chiodi, disse «Lasciatemi così, perché colui che mi dà la grazia di sopportare il fuoco mi concederà anche di rimanere immobile sul rogo, senza la vostra precauzione dei chiodi». Quelli allora non lo confissero con i chiodi, ma lo legarono. Egli dunque, con le mani dietro la schiena e legato, come un bellariete scelto da un greggio numeroso, quale vittima accetta Dio preparata per il sacrificio, levando gli occhi al cielo, disse «Signore Dio Onnipotente, Padre del Tuo diletto e benedetto Figlio Gesù Cristo, per mezzo del quale Ti abbiamo conosciuto, Dio degli angeli e delle virtù, di ogni creatura e di tutta la stirpe dei giusti che vivono al Tuo cospetto, io Ti benedico perché mi hai stimato degno in questo giorno e in quest'ora di partecipare con tutti i martiri al calice del Tuo Cristo per la risurrezione dell'anima e del corpo nella vita eterna, nell'incorruttibilità per mezzo dello Spirito Santo. Possa io oggi essere accolto con essi al Tuo cospetto, quale sacrificio ricco e gradito, così come Tu, Dio senza inganno e verace, lo hai preparato a me, l'hai fatto vedere in anticipo e ora l'hai adempiuto. Per questo e per tutte le cose io Ti lodo, Ti benedico, Ti glorifico, insieme con l'Eterno e Celeste Sacerdote Gesù Cristo, Tuo diletto Figlio, per mezzo del quale a Te e allo Spirito Santo sia gloria ora e nei secoli futuri. Amen. Dopo che ebbe pronunciato l'Amen e finito di pregare, gli addetti a rogo accesero il fuoco. Levatasi una grande fiammata, noi a cui fu dato di scorgerlo perfettamente, vedemmo allora un miracolo e siamo stati conservati in vita per annunziare agli altri le cose che accaddero. Il fuoco si dispose a forma di arco, avvolta come la vela di una nave gonfiata dal vento, e avvolse il corpo del martire come una parete. Il corpo stava al centro di essa, ma non sembrava carne che bruciasse, bensì pane cotto, oppure oro e argento reso incandescente, e noi sentimmo tanta suavità di profumo come di incenso o di qualche altro aroma prezioso. Responsorio. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi, così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato la vita. Conosco la sua tribolazione e la sua povertà, tuttavia sei ricco. Sii fedele sino alla morte e ti darò la corona della vita. Non temere ciò che stai per soffrire, ecco il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla prova. Sii fedele sino alla morte e ti darò la corona della vita. Bene, fratelli e sorelle, credo che sia un fluscio delle letture di San Policarpo, come le altre letture che abbiamo pregato insieme, abbiamo meditato, degne di fare una profonda meditazione. Ecco, il martirio di San Policarpo ci fa capire che nulla ci separerà dall'amore di Cristo. Vi voglio bene, sempre uniti nella preghiera, vi mando un abbraccio forte, sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.